La casa sta andando in malora. Senti, a proposito, Mafalda, per quelle cambiali... Niente avallo. Anche tu pensi solo a mandarmi in rovina. Mafalda, si tratta solo di una firmetta. E non ti provare a falsificare la mia firma, come l'altra volta, che ti faccio fare la fine di Silvio Pellico ti faccio fare. No, grazie. No. C'è un pacco per il signorino Fernando, da Casablanca, Africa. Un pacco dall'Africa per il mio divino? E chi può essere? Luana, Queen of Thesars. Allora, aspettavo, mamma. È un pacco, è un regalo di un amico. Un amico? E tu hai degli amici africani, divino? Io? Ah, sì, l'ho conosciuto per corrispondenza. È un geometra. Ah, ma bisogna aprirlo. No, no, mamma, lascia perdere. Sono scambi tra pro agricoltori, sono, sono questi, sono bulbi speciali. Ah, dei bulbi. Sono fiori del deserto. Che bello, non l'ho mai visto, un fioro del deserto. Ma lascia, ma, ma, cosa, sai, i bulbi sono tutti uguali. Ecco, vedi, mamma, è questo, eh, geometra, ha fatto. Oh, che meraviglia. E ha anche il pelo. Alberto, c'è un errore tra hanno sbagliato indirizzo. Eh, già, è ovvio, hanno sbagliato indirizzo. E questo è il fatto, eh. No, no, è proprio questo l'indirizzo. Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 Grazie.